La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe... E' la storia di una passione, è la storia di 90 anni di vittorie, sconfitte, emozioni, è la storia della Salernitana, è la storia dipinta di granata che ha accompagnato generazioni di salernitani. Dal primo campo, con lo sfondo della chiesa di San Pietro in Camerelli, sa piazza d'armi, dal vestuti all'arichi e la storia del calcio cittadino si è inevitabilmente incrociata con la storia di Salerno degli ultimi 90 anni, le due guerre, l'alluvione, il terremoto ed in mezzo sempre la Salernitana amata, contestata ma sempre nel cuore, perché l'amore per la Salernitana è sempre stato come quello per una mamma, mai un tradimento. Una lunga storia d'amore, fatta di presidenti passionali, ma anche talvolta pronte a fiutare l'affare, a promettere e scappar via. Calciatori bravi e meno bravi, ed allenatori che hanno fatto la storia del calcio, su tutti i Gipoviani e poi Tom Rosati, fino alla storia recente, quella firmata soprattutto da Dele Rossi. Campionati esaltanti e tornei pieni di sofferenze, ma i tifosi sono sempre stati lì, vicini alla Salernitana. In 90 anni la squadra di calcio non è mai stata sola, anche nei momenti più bui, quando il calcio era scandito da cambiali difficili da onorare, debiti e rischi di fallimento. L'umiliazione del fallimento subita una sola volta, quattro anni fa, ma subito, la Salernitana ha rialzato la testa ed è tornata nel calcio che conta. Salernitana, sempre Salernitana, solo Salernitana. 90 anni di storia e di passione. Per un ospite come la Salernitana, Siracusa ha mobilitato il sole, il vento e gli abbaglianti sorrisi di un pubblico femminile da darle tra regola al pallone. Le parole volano, gli scritti rimangono, fiori come per un fidanzamento, ma a cuori di battaglia. Oggi i colpi non si daranno a patti, la Tramontana fa schioccare scialli e impermeabili in un garrito di attese e di speranza. Rien ne va plus. Sull'ala del vento il Siracusa investe la Salernitana che gioca contro l'Otre di Eolo. Rega è subito impegnato e Tori marca spietatamente sul guizzar di Flumin. Ecco, gli ha fatto misurare il suolo isolano, ma toccherà poi all'ala azzurra sullo scoccare del venticinquesimo minuto di prendersi la rivincita col tiro mancino che batterà Rega. Così è nato il gol siracusano che rimbalza tra gli osanna della folla. Ma in ripresa Eolo si metterà a giocare per la Salernitana approfittiandole il pareggio. E nella stagione 46-47 la Salernitana vince il campionato di Serie B. Il presidente Mattioli assume in funzione di direttore tecnico Gipo Viani. E così la squadra di Buzzecoli, Boccia, Iacovazzo, Dagianti, Margiotta, Valese, Volpe, Onorato, riesce nella grande impresa, quella di conquistare il massimo campionato. E' il 21 giugno del 1947. Come lo faccio? Come lo descrivi? Cioè più che altro un tiro a volo da lontano? Un tiro a volo? No, un tiro a volo. Scavalcai con la palla un avversario che mi veniva in mondo. Scavalcai con la palla, terra e palla tirai da circa 30 metri. E' intorno al 7. Certo che Margiotta è stato un grande centroavanti. Centavanti dell'epoca, centavanti non è che il centroavanti che vedeva il dietro, costruiva, dava il pallone. Centavanti che appena arrivava la botta tirava. E' della colla, non c'è niente da fare. Salerno ne ha viste tanti in questi anni. Ora vede le speranze della sua squadra promossa in Serie A e fiduciosa di rimanervi. Blason e Radio, due muletti della Triestina. Puzzegoli, capitano della Salermitana. Masci, portiere variabile come un barometro in primavera. Il pallone casca dalle nuvole. Deve avercelo mandato Puzzegoli. La splendida dinamo delle energie Granata e Iacovazzi, numero 6. Il primo punto triestino è stato segnato dopo soli 8 minuti per errore di Masci. Alla mezz'ora il pareggio, sul colpo di testa dell'argentino Sifredi. Nella ripresa la Salermitana trova un tempo impetuoso e presto fruttifero. Azione dell'ala sinistra onorato, corto tiro di sinistro ancora di Sifredi, gol. Purtroppo alla fine se ne aggiungerà un altro in pura perdita, l'autogol di Dagianti. Peccato. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi. Nel 1956 la squadra Granata, allestita male in sede di Campagna Acquisti, retrocede in C. Il campionato di terza serie 56-57 fa registrare il ritorno a Salerno del portiere De Fazio. Il presidente è l'onorevole De Martino, direttore generale e l'ingegnere Capano. È il 1960, è l'anno di Gagliardi, quello di una svolta importante per la Salernitana. Gagliardi, fratello del miliardario Filippo, residente in Venezuela, è socio della Lazio ed ha ambizioni politiche. Sono alcuni giornalisti sportivi salernitani a sollecitarlo. Come allenatore viene ingaggiato Puricelli. Con la consulenza di un giovane Romeo Anconetani, la squadra viene rinnovata, vengono saldati i debiti con la Lega e la Salernitana può respirare. Sono tanti i volti nuovi, tra questi quello del mediano Rino Santin, prelevato dal Tevere Roma. Il campionato di Serie C, 65-66, è caratterizzato dal testa a testa tra Salernitana e Cosenza. La squadra, allenata da Tom Rosati, inizia alla grande, vincendo a Lecce con doppietta di Pierino Prati. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta. Bruno Somma era un segretario sulla carta, ma di fatto... Era un manager, un manager, faceva il direttore... Il primo vero direttore... Il direttore generale, ecco, generale, perché lui comandava tutto. Prima del Presidente veniva. Quello che diceva lui era Vangelo. Ma è vero che poi gran parte del merito dell'aver messo su una squadra competitiva è proprio di Somma in quella stagione? Come lui? Ma non è messo solo quello, ne è messo parecchio. Non so, lui è stato sempre un poco sfortunato. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio è così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La salernitana colleziona in C1, un dodicesimo, un quarto, un settimo, un ottavo ed ancora un quarto posto. Sono gli anni questi di Zaccaro, capocannonire del torneo 83-84 con 14 neti. Gli anni del tandem... E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere e di andare. Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. E' per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può affermare. La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo in mezzo al pubblico, è incredibile l'entusiasmo, è incredibile. Io non l'avevo mai vista, la Serie B. Allora di Bartolomeo è fatto, no? Ci siamo riusciti. Conquista Metri, va Grimado in sovrapposizione, Turisco. E' il gol! Gol! E' il gol di Turisco! Gol! Turisco! Turisco! Ha segnato il 2-0! La situazione a Breda, è l'area di rigore. Breda, Breda, la conclusione. Ed è solo 3! Ed è solo 3! E' la Serie B! E' la Serie B è nostro, amici! E' nostra la Serie B! Strada! Ballone a destra, da un certo disco. Spariore difensivo, la scresenta. Bisano! Il liscio! Il gol! Breda è solo! Bisano! Il tiro! E' il gol! Parte strada, il tiro! Gol! La ruta di Strada! Ha segnato Strada! Il gol di Stada al parello!